Grazie, grazie Presidente. Con questa mozione vogliamo solo esprimere di nuovo la contrarietà alla realizzazione di nuove impiantistiche e discariche nella zona della Valle Galeria. Più precisamente ci opponiamo al progetto di una discarica per i rifiuti contenenti amianto. Ci siamo già opposti in occasione della Commissione Ambiente, nei consigli municipali e alla presenza degli uffici tecnici. Volevo ricordare che la salute per noi, la salute dei cittadini, viene prima di tutto e per un territorio già ferito dalla presenza della storica discarica di Malagrotta, dall'attività estrattiva, dalla raffineria, dall'inceneritore dei rifiuti ospedalieri e da tutta l'impiantistica industriale presente sul territorio, solleciteremo e approveremo solo progetti finalizzati a risanamento ambientale. Infine ringrazio anche i colleghi dell'opposizione che hanno firmato in capigruppo la mozione, ma è importante, e ve lo voglio ricordare, che subito dopo la nostra espressione di parere dovrà esprimersi la conferenza dei servizi in Regione. Quindi vi invito ad esprimersi nello stesso modo, a far esprimere nello stesso modo anche i vostri colleghi in Regione. Grazie.